Allora, io intanto faccio parte del gruppo dei Poppers, il gruppo che si è riunito e organizza questi flash mob. Il messaggio è un messaggio di fratellanza in realtà, che insieme si superano le differenze, si superano le difficoltà. Beh, intanto speriamo di riuscire a farlo un'udienza del Papa, di essere ricevuti tutti quanti insieme. Sì, perché comunque come cassa di risonanza, per passare il nostro messaggio di gruppo che può fare la differenza, era comunque importante farlo proprio qui. Di fratellanza, di uguaglianza, di riscatto, di speranza, la speranza sicuramente. Per passare il tempo, lo poco che ho stato qua, e poi spero di andare a mio paese, sono vecina del Papa, sono di Chile, è di Argentina. Quindi le mando un saluto in spagnolo e molte grazie per tutto lo che sta facendo per il mondo, di verità è un Papa maraviglioso. Io ho 5, ho comune 6 mesi, in realtà non ho comparto molto con i miei colleghi, con i miei colleghi, perdono, perché ho stato in infermeria, io ho tengo cancro. È così, per fare una nuova cosa qui dentro, perché mi hanno detto che era un omaggio per il Papa, siccome so che sta male, ho voluto farlo. No, però è una questione umana. I'm from Nigeria, half of Nigeria, half of Liberia, half of her. Fortunato, I thank God, because I'm an undercap, but I like to praise the Lord, and I love Pope, because I want him to know that we all love him. Especially, I love him so much, because though I used to, even many times, if they are showing him on the television, I listen to his words, when even when he was telling children about children, because of the love I have for children too, because he still loves children. I thank him for everything that he has done for us, even for everybody, not only me, he do many things for everybody. So, that is my pleasure, it's a real pleasure for me, to be among the people that will thank him, and to thank God, and to thank God for his life too. It's a long story, but I thank God, it's past tense. It's a long story, thank God, it's past tense. It's a long story, it's past tense.